Ragazzi, interrogazione, vediamo se siete pronti. Avete studiato? Prima domanda, che posizione occupa il Giappone nel ranking UEFA? Top 30 penso. Precisa? La posizione è precisa. 26. Popsu? 22. Quasi? 21. 23. 20. Bravo, 20. Ho vinto, 1-0. In che anno il Giappone ha partecipato al Mondiale per la prima volta? 94. No. 2002. No, prima. 98. Bravissimo! 2-0. Quante stagioni ha giocato Nagatomo nell'Inter? 4. 8. Bravissimo, grande! Citate tre giocatori giapponesi che hanno giocato in Serie A. Naga Tomo. Nakata. Nakata è giocato a fare. Sì? Ne manca uno? Dai, aiutami. Non lo so, non lo so. Non lo so. Anch'io non lo so. Honda, non ve lo ricordavate? Ah, sì, è mio. Conoscete qualche sport inventato in Giappone? Sumo. Bravo! Marco, se ne sa più di te. Marco ha studiato. Quale città giapponese è definita la città gemella di Milano? Tokyo? No, però non è più. Osaka. Bravissimo. Ultima domanda. Quale di queste quattro cose non è realmente giapponese? Tempura, karaoke, emoji, sudoku? Emoji. No. Karaoke? No. Può ripetere per favore? Sudoku. Tempura, karaoke, emoji o sudoku? Tempura. Tempura, da dove viene? Cinese. No. In Corea. Portogallo. Bravissimo! Vedi? Grazie a tutti.